Inaugurati nell'ospedale Regina Montis Regalis a Mondovì il reparto di continuità assistenziale ad alta valenza sanitaria e il micronido aziendale. Si tratta di un ulteriore passo compiuto dall'ASL Cune1 nell'ottica del miglioramento del servizio. Il micronido, i lavori di ristrutturazione, di messa a norma e sistemazione dei locali è cominciato ormai quasi tre anni fa, è stato aggiudicato alla cooperativa vita, alla gestione dei locali e sarà un servizio che riteniamo utilissimo in particolare per i nostri dipendenti. L'altra cosa molto importante, direi altrettanto importante, è che è più legata alla riorganizzazione della rete ospedaliera, quello appunto di aver trasferito le attività prima collocate presso la struttura di Dogliani, appunto qui all'ospedale di Mondovì, sfruttando il reparto che era inutilizzato. L'amministrazione regionale sin dal 2003 ha perseguito azioni volte all'implementazione dei servizi alla prima infanzia e i posti bambino in tutto il territorio piemontese, secondo una nostra stima del 31-12-2012, sono 26.971. Di questi una parte scaturiscono proprio dei nidi aziendali. Per i bambini credo sia necessario sempre di più dare supporto alle mamme lavoratrici e il fatto di aver visitato e inaugurato questi locali bellissimi, attrezzati in modo adeguato per le mamme che lavorano, sia un dato oggettivo importante. Sicuramente importante è invece il reparto per gli anziani che è stato aperto e magistralmente condotto da medici che hanno già esperienza in questo settore. Giornata densa di significato, due nuove strutture all'interno dell'ospedale che prendono corpo, dei servizi essenziali, a dimostrazione che questa struttura ospedaliera oggi davvero è capace di dare servizi a 360 gradi. Grazie 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 Grazie